eccoci qua siamo pronti con un'altra delizia da preparare il nostro buongiorno al pastry chef francesco della pasticceria royal buongiorno come stai francesco la tua inventiva la tua creatività non si ferma mai non si spegne mai ma soprattutto oggi ci presenterai un dolce che possiamo preparare che pensate un po alla sua ispirazione da un importante film film cult che piace a tutti chi non l'ha visto la mia una volta nella vita la grande rossella oara via col vento via col vento quindi un dolce dedicato a questo film ma è una grande ispirazione perché ha una pure una sua leggerezza sapete insomma è una pasta molto soffice è semplice nell'insieme perché è solo ricoperta di zucchero quindi è facile da preparare e allora entriamo nel vivo di questo dolce via col vento così è così che si chiama così è molto richiesto molto richiesto da te tra l'altro anche perché lo si può farcire in diversi modi dai sono curiosa sono curiosa francesco da dove si parte da dove si parte ok dobbiamo prendiamo carta e penna? perfetto allora dai dirlo tu carta e penna mezzo litro di acqua mezzo chilo di burro mezzo chilo di farina quindi è facile pure in questo caso perché è tutto uguale mezzo chilo, mezzo chilo e mezzo chilo riepiloghiamo farina, burro e acqua poi abbiamo, dobbiamo, questo impasto una volta pronto lo dobbiamo lisciare con delle uova 15 uova che andremo a inserire nell'interno man mano iniziamo i passaggi, acqua e burro sul fuoco, dobbiamo, aspetteremo che bolle questo che abbiamo messo questi ingredienti che abbiamo messo acqua e burro, dopodiché andiamo ad inserire la farina due secondi che siamo quasi quindi acqua e burro acqua e burro e poi la farina e poi la farina aspettiamo questo primo bollore e quando siamo pronti con il primo bollore siamo appunto pronti per adagiarvi all'interno della farina sì, e dicevamo, li possiamo riempire come vogliamo qual è la maggiore richiesta? al pistacchio al pistaccio c'è una tendenza negli ultimi tempi di pistaccio che poi, insomma, il pistaccio, quello siciliano, diciamocelo è il non plus ultra sì, infatti, consiglio una crema al pistaccio non si può mettere al pistaccio, al cioccolato, alla crema, al limone anche, soprattutto e niente, è eccezionale nel sua leggerezza e nella sua composizione nell'intanto ci siamo quasi sì per poter andare avanti i passaggi, quindi li epiloghiamo acqua e burro aspettiamo che bolle e gli inseriamo la farina inseriamo la farina quindi siamo pronti per versare la farina eccoci, siamo pronti per versare ok mischiamo il tutto perfetto siamo prontissimi quindi c'è questa preparazione ecco, abbiamo inserito acqua e farina acqua e burro poi successivamente, dopo più un po' l'ora abbiamo inserito la farina eccola qui ed esce questo impasto che dobbiamo poi dopo renderlo liscio con le uova abbiamo detto che il segreto di questo dolce è nella preparazione che l'impasto risulti liscio ma in che maniera? proprio con l'ausilio delle uova e quindi ti chiediamo qual è poi anche la metodica di lavorazione per fare in modo che con le uova poi l'impasto risulti liscio abbiamo bisogno della planetaria ci aiuta? sia la planetaria lo si può fare anche a mano facendo attenzione però a mano cosa facciamo attenzione? niente mischiarlo anzi sai cosa facciamo? facciamoglielo vedere a mano facciamolo a mano ok perfetto quindi inseriamo 3-4 uova iniziamo con 3-4 uova ecco vabbè quindi aiutiamo anche chi in quel momento non trova la planetaria a casa esatto non trova la planetaria però in questo momento ha voglia di preparare il dolce sono le un'unità planetaria e quindi siamo sicuri di poterlo fare direttamente con le nostre mani con le nostre mani ed è velocissimo pure tra parentesi ecco metteremo 3-4 uova alla volta quindi via col vento lo avete avete mai preparato questa dolcezza mai nella vostra vita se non l'avete mai fatto questa è l'occasione giusta per ascoltare di intercettare tutti i consigli quelli suggeriti quest'oggi e donati ci ed argiti dal nostro pastichef Francesco della pasticceria Royal ricordiamo che in pasticceria c'è anche tuo fratello Bruno sì perfetto e che via col vento effettivamente è un dolce che mette d'accordo tutti i palati grandi vicini vero proprio per il fatto che possano che siano effettivamente di base buoni così da mangiare ma diventano ancora più squisiti ancora più deliziosi con la farcitura che maggiormente ci aggrada sì io infatti ecco vedi sono sono lì a poter riuscire è semplice da preparare sicuramente abbiamo bisogno di imparare anche quella che è la cottura no Francesco ecco poi la preparazione nello step successivo è diventato sì nello step successivo è diventato questo impasto liscio naturalmente lo ci si mette in un sac a poche che poi dopo faremo vedere anche in una telia ok va bene Francesco dobbiamo formare dei cerchi dei cerchi quindi stiamo preparando il tutto l'impasto abbiamo detto poco per volta è segreto è di aggiungere poco per volta le uova idem anche nella planetaria però ti domando Francesco vero? sì idem anche nella planetaria le uova hanno aggiunto poco per volta di modo che l'impasto resti comunque liscio e abbia questo colore particolare anche Francesco è certo sì perché le uova danno il colore ecco ci siamo nell'impasto quasi fosse una purea di patate infatti softice come una purea di patate in realtà noi già abbiamo la preparazione di via col vento è un dolce da provare è un dolce come diceva il nostro pasticceria Francesco molto richiesto nella tua pasticceria Royal ne vanno matti e ghiotti tutti i palati proprio perché possiamo farci gli al pistacchio possiamo farci il cioccolato cioccolato bianco perfetto sicuramente anche marmellata anche è vero anche e quali altre farciture crema chantilly nocciola caffè crema chantilly sicuramente siamo pronti siamo pronti andiamo proprio nella preparazione prendiamo una teglia di quelle che abbiamo nei nostri forni a casa questi siccome vengono usati spessi quelli non ha bisogno di imburrare imburrare perfetto una pasta che non ha di questi problematiche non ha bisogno di questo strada gemma quindi dobbiamo aiutarci sempre con sacca poche se avete un forno nuovo lo dovete imburrare sì anche questo diciamo proprio per far sì che riescono a fare il viagorvento ecco in un sacca poche sì con un beccuccio di forma riccia stretto piccolo per poter fare questi cerchietti eccoli è molto semplice da preparare in casa Francesco sì molto semplice solo di volontà e di voglia di viaggiare nell'aria e quindi di andare via col vento con i nostri via col vento in realtà quelli che quest'oggi ci hai presentato in maniera magnifica in maniera dettagliata e con quei suggerimenti validi per poterle effettivamente replicare ognuno di noi in casa propria perfetto e può essere anche un omaggio per una vicina di casa o per quando andiamo a pranzo da qualcuno ecco preparare questi via col vento e farcerli un po' alla nostra maniera magari anche con Nutella anche anche vero? sì sì eccoci siamo pronti siamo prontissimi allora abbiamo preparato questa teglia dobbiamo fare questa circonferenza che è all'incirca di 3 centimetri nel modo in cui vi ho mostrato e deporli a poi nel forno preiscaldato a 180 gradi 180 gradi 20 minuti 20 minuti una ventina di minuti ventilato? ventilato come via col vento qui non ci dimentichiamo e infatti ventilato proprio come via col vento perfetto prima di inserirli nel forno dobbiamo cospargerli di granella di zucchero di qualsiasi tipo che abbiamo a disposizione anche con confettini colorati anche 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 sì si può come in questo caso ce li abbiamo già pronti naturalmente per motivo di tempistica ed eccoli ed eccoli spostiamo questi spostiamo io direi di spargere appunto e via col vento anzi le inseriamo nel forno inseriamo nel forno questi li mangeremo dopo dopo li mangeremo esatto e vedremo come sono venuti anche quelli ma sicuramente buonissimo come questi ecco questi un altro po' di zucchero a velo perfetto zucchero a velo e poi in questo momento sono neutri vero Francesco in questo caso sono neutri però quando decidiamo di farcire la crema dove la possiamo inserire ma anche sopra al centro al centro perché nella circonferenza che abbiamo fatto ci rimane questo buchetto che vediamo quindi nell'interno possiamo inserire quello che vogliamo prima di infornare no dopo ecco questo è importante è importante avrei sbagliato Francesco e poi mi sarebbero riusciti male via col vento preso dalla velocità della nutella e invece no quindi dopo andiamo poi a farcire poi una spolverata di zucchero a velo e un buon via col vento a tutti complimenti Francesco grazie a te grazie a voi che vi troviamo puntualmente a Casavatoria un luogo molto ricercato presidio di bontà e dolcezza grazie Francesco grazie a te grazie a voi a prestissimo a presto ciao bene bene Grazie.